Per me Pogba è una cosa oscena alla Juventus, è un no clamoroso per me nei confronti del ritorno di Pogba. Sono contrariato, non lo rivolevo, non lo rivoglio. Pogba, il ritorno di Pogba, del grande Pogba. Cioè Pogba che a Manchester l'hanno messo in cantina, Naftalina, e noi lo devo andare via. Pogba, poi con milioni di ingaggio, perché è normale, Pogba, che non ne la fa manco più a muovere. Cioè non gioca più, è diventato lento come una lumaca. Cioè per girare su se stesso ci mette mezza giornata. Cioè la terra fa meno fatica la terra a girare attorno al sole che lui a girare su se stesso. E non ne va arrivare a Pogba. Pogba, questa è un'operazione che purtroppo non è una grande operazione. Perché secondo me il giocatore Pogba non è più il Pogba dell'avvento. Poi mi sbaglierò e mi auguro perché a questo punto bisogna augurarsi che io mi sbagli. Ma questo secondo me non è un'operazione. Anche fisicamente Pogba non è più quello di una volta. Io vedo veramente tante persone qui farsi le seghe. Già. Ma Pogba ragazzi non è più quello di una volta. Se voi pensate che Pogba sia ancora quello della Juventus, avete sbagliato totalmente strada ragazzi. Avete sbagliato totalmente idea. Il Pogba della Juventus, quello lì, non esiste più. E questa vostra euforia è il motivo esatto per cui Pogba ci ha preso in giro per anni e continuerà a prenderci in giro adesso. Ma vi aspetto tutti. Ma vi aspetto tutti. Voi probabilmente aspettate me. E io aspetto tutti quanti voi. Aspetto tutti quanti voi quando nel corso della stagione Pogba si rivelerà quello che è. Perché si rivelerà quello che è. Si rivelerà esattamente quello che è.